Mi dispiace, signor Simpkins, la risposta è no, 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 meno sei, ancora quattro. Non ho tempo di discutere, vi dico che dovete farlo stanotte. Lei ora dovrà fare una domanda che richieda un sì o un no, ispettore. Avete capito? Stanotte! Ma sono piccoli. Non c'è da tirar fuori mezza dozzina di giacche da tutta l'imbrancata. Giacche? Di pelle e di cane? Mi contenterò di mezza dozzina, ma sbrigatevi. La polizia è dappertutto, voglio che sia fatto stanotte. E che tecnica usiamo? Quella che vi pare, avvelenateli, annegateli, dategli un colpo in testa. Avete del cloroformio? Neanche una goccia. E nemmeno ettere o alcol. L'ha finito. Non mi importa di come ammazzerete quei vermiciattoli, purché lo facciate, è subito! Ah, signorina, abbia un po' di compassione. Ci lasci vedere il resto dello spettacolo. Alla tv c'è qual è il mio reato. Sto a perdersi in dire, idioti! Io tornerò domattina prestissimo e dovrà essere tutto finito. Altrimenti chiama la polizia. Polizia? Avete capito bene? Ho l'impressione che faccia sul serio. Ah, li metteremo sotto appena sarà finita la trasmissione.